Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto bancario. Il premio è quello di Avvocato dell'Anno, boutique di eccellenza, diritto bancario, specialità regolamentare. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Ha dimostrato negli anni di essere un profondo conoscitore della materia e del mercato del settore del diritto bancario regolamentare, che l'hanno portato ad essere, per un'anime parere della propria clientela, ma anche delle controparti, un affermato Avvocato dalle eccellenti capacità professionali nel panorama legale italiano. The winner is... Tommaso Senni, Senni & Partners. Ed è proprio collegato con me naturalmente l'Avvocato Tommaso Senni, partner di Senni & Partners. Avvocato, benvenuto e grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Un commento subito a caldo. Insomma, Avvocato dell'Anno, con tutto ciò che ne consegue, boutique di eccellenza, diritto bancario, specialità regolamentare, che cosa significa per lei? Ma è sicuramente un importante traguardo che il nostro studio può dire di aver raggiunto. Colgo l'occasione anche per dire che è il secondo premio ottenuto in questa stessa categoria, quindi questo è indice anche del fatto che va ulteriormente consolidandosi una expertise dello studio su questo settore, che peraltro è tradizionalmente considerato come un settore di nicchia, forse ha ragione, forse ha torto, fatto sta che le competenze che si presuppone che i consulenti che operano in questo settore abbiano sono tendenzialmente competenze molto tecniche, molto settoriali, che vanno facendosi sempre più marcate negli anni, nel corso di un periodo di formazione molto lungo. Ecco, anche spiegato il perché, non siamo in molti ad occuparsi sulla piazza di questo settore, un po' particolare. Beh, abbiamo letto, appunto, affermato Avvocato dalle eccellenti capacità professionali, quindi lei l'ha motivato ulteriormente. Le posso chiedere, Avvocato, che cosa ha significato per lei, per il suo studio questo periodo e soprattutto come vi state approcciando al futuro? In realtà è stato un periodo sicuramente non di, diciamo, esaltante espansione dal punto di vista delle opportunità professionali e delle opportunità di clientela o di mercato. Certo è che noi operando molto nel settore transnazionale, quindi assistendo molto spesso degli istituti di credito svizzeri, lussemburghesi o di altri poi insediati nel Regno Unito, o comunque basati in paesi stranieri, quindi dando loro assistenza nel movimento inbound, cioè verso l'Italia, verso il mercato italiano. Abbiamo vissuto questo delicato periodo anche assistendo alle problematiche legate alla diversità, con cui questo fenomeno, purtroppo, delle limitazioni legate alla pandemia, venivano vissute in ciascuno dei paesi considerati. Quindi è stato doppiamente interessante, perché abbiamo cercato di supplire alle carenze che si manifestavano in uno dei paesi considerati, con aspetti più positivi che invece si manifestavano negli altri. Quindi abbiamo cercato di trovare una sintesi, insomma, cercando di ovviare le difficoltà del cliente, per quanto è stato possibile, ovviamente. Eh, certamente. Quindi come guardare al futuro, insomma, molto è già contenuto in quello che lei ci ha detto fino adesso, però, insomma, se dovessimo parlare proprio delle prossime sfide, mettiamola così. Sicuramente una prossima sfida sarà quella nel settore bancario e regolamentare, sarà quella di definire in modo sempre più preciso gli ambiti di applicazione e chiarire attraverso dei criteri che siano il più possibile condivisi tra tutti i player di settore, quali siano le interpretazioni più corrette riguardo a tante norme che ancora non sono chiare. Mi riferisco in particolare agli scenari che si profilano e che ci aspettiamo che si verifichino a seguito della Brexit, a partire dal primo gennaio con la fine del periodo transitorio, anche e soprattutto per quel che riguarda i rapporti bancari e finanziari tra l'Inghilterra, tra il Regno Unito e l'Italia, oltre che tra il Regno Unito e gli altri paesi dell'Unione Europea. Le sfide quindi sono, oltre che evidentemente quelle legate alle difficoltà più evidenti, quelle dettate dalla pandemia, dal periodo che stiamo vivendo, dal punto di vista più tecnico-giuridico sono quelle di rilanciare nuove chiavi di lettura riguardo a una normativa che spesso non è chiara e in cui spesso noi operatori dobbiamo intervenire con delle interpretazioni spesso un po' creative o di, diciamo, di interpretazione costruttiva. Ok, insomma sì, quindi quello, diciamo che tutto quello che abbiamo detto è anche di buon spiccio, no? Ci siamo mossi tra il pratico e anche l'ideale, mettiamola così sperando che poi diventi effettivo. Quindi grazie all'Avvocato Tommaso Senni, partner di Senni & Partners, per questo riconoscimento, ricordiamo che è l'anno dell'anno. E a presto, buon lavoro. Altrettanto, grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci.